Grazie a tutti 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 Grazie per l'invitation per l'invitation del Sénégalismo per la pratica del sport Abbiamo lanciato un programma per l'invitation Il programma Dioche Derec Il programma Dioche Derec Il programma Derec Il programma Derec Ma dal i raggiore Derec Il programma Derec Il programma Derec Di l'invitation Il programma Derec Il programma Derec Di Rambam Il programma Derec si iscrivete non si può essere adorata vorremmo un'altraizione si è giusto no il si sport è andagliato uno può essere adorata questo programmatto è la ragione per iniziare le pommo per le luci e ciée e cimetiare Non ci sono le vacanze agricole. La vacanze agricole, come le faccio, la prossima settimana, ci sono tutti i giorni. Ci sono molto cercate, ma pratica regolare del sport. Ci sono invitati tutti i Sénègaliani. Ci sono tutti i Sénègaliani, soprattutto i ragazzi di tutti i ragazzi. Ci sono tutti i ragazzi, ci sono tutti i ragazzi, ci sono tutti i ragazzi di fare sport. Ci sono tutti i Sénégaliani che si tratta la pratica regolare del sport come si dice uno, un Esprit sain in un corpo sain. Ciò è che ci sia meglio. Quindi questo è quello che ha fatto, ci sono i ragazzi di sottottenere. Dice che, anche nel momento delle parti, abbiamo lanciato un concetto che ci sono, tutti i giorni, tutti i giorni, sui piedi e sui ragazzi, sui terra, tutti gli stati, tutti hanno un monitor per conduzire le cose facciamo 1-2 ore di sport e poi andiamo in casa questo è quello che ci ha fatto qui ha fatto il film che ha visto il bambino non è il bambino non è il bambino non è il bambino grazie 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 come ti chiedo a te chiedere la parola una sono con una differenza con una base ma sono qualità sonora ma ma insha alla e bientro insha'Allah ci benen fan e benen tematiche. Dianche in giù.